Sera Ronica, terza vittoria consecutiva per i suoi ragazzi, un bel 3-4 in casa della New Eagles e quindi dà continuità a questo inizio di stagione decisamente positivo. Sì, anche sabato i ragazzi sono riusciti a tirar fuori una prestazione dignitosa e di conseguenza è arrivato un buon risultato per noi che ci permette di continuare a lavorare in prospettiva dei prossimi incontri. Qualche calo di tensione, forse la partita potrebbe essere gestita in maniera diversa però i suoi ragazzi sono stati bravi a reagire alla difficoltà e a portare a casa tre punti davvero pesanti. Sì, qualche gol preso lo potevamo evitare tranquillamente. Magari sì, un attimo di calo di tensione ha fatto sì che loro potessero raggiungere il 2-2. Poi la reazione nostra è stata positiva e siamo andati subito col doppio vantaggio di nuovo. Mister 9 punti, la prossima gara una gara di cartello contro la Panormus a 7 punti quindi una sfida che può valere il vertice della classifica, che in gara si aspetta contro una società storica di Palermo e che ha una squadra, la squadra di Mister Ferrante, molto forte e attrezzata. Sì, io penso che col continuo del campionato loro diranno certamente e potranno esprimere tutto il loro valore. Noi per adesso, un po' con l'entusiasmo, un po' con il lavoro, siamo riusciti a ottenere questi risultati che ci permettono di affrontare questa partita tranquillamente, a viso aperto e vedremo domenica poi, attorno a mezzogiorno, che il risultato esce fuori.